Musica con i Genki Dama Cartoon Band per rivivere le emozioni legate alle più belle sigle dei cartoni animati dagli anni 70 ad oggi regalando un tuffo nel passato e un momento di nostalgico ritorno all'infanzia per tutti gli appassionati letture a cura del museo Lost Story & Santers Degustazioni a base di zucca gialla per la prima edizione della festa d'autunno in una notte arancione evento organizzato dall'amministrazione comunale di Morano Calabro in collaborazione con la Proloquo e il museo Lost Story & Santers un progetto a lungo termine che nel corso degli anni vuole aumentare il senso di comunità creare una forte sinergia cittadina da portare in altri eventi Una bella serata dedicata soprattutto ai bambini in questa festa d'autunno in una notte arancione con musica, lettura Benvenuti nella nostra festa d'autunno, un'idea innovativa dove tradizione e innovazione si fondono, dove cerchiamo di tornare per un attimo bambini anche noi perché ci saranno le sigle dei cartoni animati che hanno colorato i nostri pomeriggi allora per un momento torniamo bimbi insieme alle nuove generazioni il tutto valorizzando anche la zucca che è un prodotto identitario, un prodotto che appartiene alla nostra tradizione che va valorizzato e rilanciato grazie agli chef, grazie alle attività, grazie alla Proloquo e allo Lost Story & Santers perché abbiamo unito cultura, divertimento e prevenzione ma soprattutto grazie al gruppo consigliare che mi onoro di guidare perché è una cucina continua di idee